In casa meno pesce e carne, fuori casa si rinuncia a cinema, teatri e spettacoli e qualcuno anche alle vacanze. Ecco l'effetto dell'inflazione sui consumi delle famiglie torinesi. A fotografarla è un'indagine pubblicata in queste ore dalla Camera di Commercio. L'indice che misura il livello dei prezzi va oltre il 5%. Ancora più interessante è il FOI, l'indice che si riferisce all'inflazione per impiegati e operai, che tocca il record storico degli ultimi 5 anni, superando il 7%. Secondo i primi dati provvisori, relativi al primo semestre, 6 famiglie su 10 hanno registrato un calo del potere d'acquisto. Di più, oltre l'80% ha limitato consumi e cambiato le proprie abitudini di spesa. Oltre una famiglia su due ha scelto prodotti scontati, oppure si è rivolta a marchi meno costosi o ha cercato punti vendita più convenienti. A pagare di più, per quanto riguarda i beni non alimentari, sono i prodotti culturali e di abbigliamento. La metà dei torinesi, per esempio, ha limitato gli acquisti di nuovi capi. Sul fronte alimentare, oltre a consumare meno pesce, carne e dolci, il 15% delle famiglie torinese mette nel carrello anche meno pane. L'austerity, insomma, è già realtà. Ne è consapevole il presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina, che ha convocato ieri sera le associazioni economiche piemontesi per fare squadra. Due, gli obiettivi dichiarati, ottenere sostegni economici e facilitare l'installazione di impianti di energia alternativa.